Buonasera a tutti, sono molto contenta di poter condividere con voi il mio punto di vista circa le prospettive, le aspettative, le speranze, le attività degli operatori nell'ambito delle discipline bionaturali e dell'arte in questo momento così delicato, in questo momento così fragile, in questo momento così strano di convivenza con e di soprattutto battaglia contro il Covid-19. Mi presento, sono Riccarda Longaretti, nella vita faccio il professore universitario e la mia grande passione è la danza medio orientale, la danza del ventre. Danzo dall'ormai lontano 2002, quando devo descrivere il mio rapporto con la danza utilizzo fondamentalmente due verbi, ritrovarmi e perdonarmi. Attraverso la danza mi sono ritrovata, attraverso la danza mi sono perdonata, si è trattato di un vero e proprio percorso di riscoperta e di rabbacificazione con me stessa. Attraverso la danza io sono felice, attraverso la danza io sto bene, è un benessere e una felicità del tutto individuali, io sono felice quando danzo. Tuttavia è una felicità amplificata dal gruppo, io sono felice quando danzo e lo sono ancora di più quando lo faccio in gruppo, quando lo faccio con le amiche, quando lo faccio con le allieve, quando lo faccio con le allieve che ormai sono diventate compagne di danza. Perché nel corso di questo percorso d'amore con questa magnifica arte ho avuto anche la fortuna di scoprirmi portata e sufficientemente brava da poter insegnare questa meravigliosa arte, cosa che faccio oramai da una decina d'anni con enorme soddisfazione da parte mia. E in questo momento in cui forzatamente, necessariamente non ci resta che danzare in casa, quello che mi manca è proprio il gruppo, mi mancano le mie allieve, mi manca la sala, mi mancano le emozioni, mi manca il rumore, il fruscio dei vestiti, i respiri, mi mancano le persone, mi manca poter danzare insieme alle mie amiche. Ma purtroppo non possiamo fare altro e quindi come tante mie altre colleghe in questo periodo ho predisposto dei video da rendere disponibili alle mie allieve, in realtà sono fruibili da chiunque ne abbia voglia e modo nel web totalmente gratuitamente per tenere il segno, per continuare a danzare quelle stesse combinazioni di passi che stavamo danzando poco prima di questa forzosa interruzione ed eventualmente andare anche avanti in modo tale che al termine componendo tutte le combinazioni di passi che insegnerò in questi tutorial virtuali avremo modo di danzare un'intera coreografia o addirittura più di una intera coreografia, tendenzialmente tre è il mio obiettivo e eventualmente poterle anche rappresentare una volta che questo periodo sarà terminato, poterle rappresentare su un palcoscenico finalmente insieme alle mie compagne, alle mie allieve, alle mie amiche di danza. La nostra è una realtà piccola, la nostra è un'associazione sportiva dilettantistica che io ho avuto il privilegio, l'onore e il piacere di fondare insieme ad altre mie amiche nell'ormai anch'esso lontano 2012. È una realtà piccola, proprio in quanto piccola noi non prendiamo in affitto dei locali, non prendiamo in affitto degli spazi per un intero anno scolastico, ma li affittiamo soltanto a consumo e dal momento che appunto i corsi sono interrotti in questo periodo non usufruiamo di quelle sale e quindi sulle nostre casse, sulle nostre tasche non gravano quei costi che invece mi rendo conto possano gravare su realtà più grandi della nostra. Tuttavia, come altre realtà, come le realtà più grandi, anche la nostra piccola associazione, Iridea, soffre per il fatto che la propria agenda è del tutto scombussolata. Noi navighiamo a vista, come tutti gli altri, non possiamo che allontanare da un giorno all'altro l'orizzonte e poter riprogrammare. I nostri corsi sono sospesi, anche i nostri corsi di più ampio respiro che non quelli settimanali sono sospesi a data da destinarsi. Avevamo un weekend molto importante il 7-8 marzo che abbiamo rimandato al 4 e 5 aprile, ma chissà se potremo effettivamente farlo. È poco verosimile poterlo effettivamente fare il 4 e 5 aprile. Poi quando lo potremo riprogrammare? A maggio avevamo in programma un altro weekend dello stesso percorso, a luglio un altro ancora. Quando poter far combaciare gli impegni dell'insegnante con gli impegni delle allieve, con le prescrizioni da parte dei decreti del Ministero e del Governo? Chi lo sa? Si sta proprio come d'autunno sugli alberi, le foglie, per citare Ungaretti, ma appunto navighiamo a vista ma con un'estrema positività, con estremo ottimismo, una profonda convinzione che questa situazione di emergenza presto terminerà e potremo tornare a riprogrammare la nostra attività, tornare a riprogrammare la nostra adorata danza e soprattutto tornare a danzare insieme. E questo è un augurio che faccio a tutti voi, che possiate continuare, possiate tornare a coltivare le vostre passioni dal vivo e non soltanto a livello virtuale. In bocca al lupo a tutti! Ciao!